Dolore per la scomparsa del dottor Mirko Ragazzon, il medico di base e diacono della parrocchia di Sant'Antonio Brancaccio, è la prima vittima della seconda ondata della pandemia da Covid-19 a Torre del Greco. L'uomo, di 61 anni, era un pilastro della comunità. Abbiamo incontrato Don Raffaele del Duca, parroco di Sant'Antonio Brancaccio, per ascoltare il suo ricordo del diacono ed amico. Lui veniva sempre alla messa delle 11 come diacono, quindi leggeva lui il brano del Vangelo, poi stava vicino a me per assistere la messa, per celebrare la messa e stavamo insieme sull'altare, quindi è stato impressionante ieri non vederlo vicino a celebrare. Mirko è stato un grande, ma non lo dico soltanto io, se sentiamo in giro, tutti lo ricordano molto bene, con affetto, grande disponibilità, grande sensibilità, sia dal punto di vista professionale, perché lui era medico, e dal punto di vista come padre, come marito, come persona molto religiosa che ci teneva a tutte queste cose. Quindi viveva bene la sua vita cristiana, la sua vita lavorativa, era molto impegnato in tutto e quindi ci manca veramente tanto. Hai riuscito a sentire la famiglia? Come sta in questo momento? Stanno, vabbè, è comprensibile come possono stare. Comunque loro stanno molto sereni, perché poi lui ha educato molto bene la sua famiglia, quindi un grande papà, un grande uomo di fede, e quindi ha educato molto bene, quindi sono molto sereni. La figlia ha detto una cosa molto bella quando è finito Mirko, ha detto papà tu sei stato un dono per tutti quanti noi, quindi ha recepito bene l'importanza del papà, dello sposo, del medico e dell'uomo di fede che ha insegnato tutti questi valori alla propria famiglia in modo particolare. Cordoglio anche da parte dei colleghi medici. Sabato mattina molti dottori in camice bianco hanno aspettato fuori la chiesa il passaggio della salma del collega. Hanno fatto un corteo addirittura quando lui è sceso dall'autostrada e davanti al Bottazzi hanno aspettato che giungesse la salma nella macchina e poi l'hanno scortato fino fuori la chiesa dove c'è stato un momento di celebrazione. Vogliamo mandare un messaggio di speranza ai fedeli in un momento così difficile? Mirko ha insegnato questo a tutti quanti noi, che lui fece il cammino per il diagonato proprio avendo di mira una cosa, il servizio. E quindi il servizio l'ha contraddistinto, tanto è vero che per questo servizio ha dato tutto se stesso e ha dato la vita. Quindi per mettersi alla pari, per imitare il nostro Signore Gesù Cristo, che non è venuto per essere servito ma per servire, Mirko ha voluto fare pure questo, ha voluto fare questo. Di fatti iniziò il suo cammino verso il diagonato con questa prerogativa di servire Dio ma di servire anche gli altri, di servire la comunità. Quindi l'unico motivo di speranza per tutti quanti noi è questo, che adesso noi siamo convinti che lui viene, secondo il brano del Vangelo di Luca che io lessi fuori alla chiesa sabato scorso, il Signore che dice alla fine dei tempi io farò mettere a tavola i miei servi e io stesso passerò a servirli. Quindi Mirko ha fatto questo, ha servito tutti quanti noi, ha servito la comunità, ha servito i suoi pazienti e quindi noi siamo certi che il Signore già l'ha messo al suo banchetto a celebrare con lui la festa di nozze dell'agnello, come dice il libro dell'Apocalisse.